Adesso voglio commentare con te insomma le immagini di questo evento a cui siamo stati già ridi No, è stato un bel evento quindi ne parlo con molto piacere e sto ridendo Parliamo dell'aperitivo con Leon Camier presso il dealer motoshop 2000 a Capua questo bel sabato che abbiamo trascorso con gli amici di motoshop soprattutto con Camier che si è prestato molto all'evento Simpaticissimo, sì Quando si è prestato? Sì, ma tu metti due ragazze che fanno il sexy bike wash davanti a un pilota, il pilota non credo che vieni meno Molto divertito, anzi io voglio salutare Bruno Gaipa e le amiche Anna e Gioia che hanno deliziato questo sabato pomeriggio a Capua state vedendo le immagini Tamponamenti a raffica lì fuori Sì, a un certo punto ho visto il film di Carabinieri perché veramente il chiasso era tantissimo Bello, ci vogliono questi eventi Bella, bella festa Anche se io mi aspettavo qualche motocilista in più Sì, delusa Poi non dite che non si organizza niente in campagna perché non è vero Le cose si fanno Potete seguire i media che se ne occupano come noi che vi diamo tante informazioni e poi ci trovate sui posti Le cose si fanno Voi volete fare i motociclisti su Facebook, da casa ormai questa è la moda sui forum Bellissimo spararsi la posa su Facebook Prendete la moto e sparatevi 500 km ogni volta che uscire senza fare troppi gradassi Vabbè, adesso ci vediamo un attimo di pubblicità non vi muovete perché dopo c'è Leon Camia con Giovanna Longobano Assolutamente Ho sudato per farla Gruppo Rima Yamaha Via Arenaccia Napoli Motoshop 2000 Siamo in via nazionale Appia per Santa Maria Capua Betere Prima via Orazio 73 Moto e moto A 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo VMC Motostore Via Ferrante Imparato Nel complesso Napoli Este Siamo alla Motor Shop 2000 Siamo in compagnia di Leon Camia Pilota del Mondiale Superbike So, first of all, welcome in Campania You saw Naples this morning, right? Yeah, it was good, yeah We just had a little tour around, see the sights And, yeah, went for some food And then come here this afternoon Did you eat pizza? We did, yeah, a big meter long pizza It was good Ok, so, an Italian team, an Italian bike How do you feel about the Italian way? It's good, it's different than what I'm used to for sure But, yeah, it took a little bit of time to learn it Just to learn how to work in an Italian team And work with people So, it's good But it's, as I said, it's taken a little bit of time But every time I'm sure it's getting stronger So, we just need to keep working Keep figuring out the bike a little bit more And keep pushing What do you think about the bike? The bike's good, for sure It's max proof last year it can win the championship And, yeah, it's obviously working very well And for me this year we've It's been a bit up and down But we figured some stuff in the last few races That's made it better again So, if we can just keep figuring little things out Then hopefully we can keep pushing And being on the podium And hope to have a win soon On the podium, like, the last time in Aragon Yeah, the last race was good for us We had a good qualifying for a change Which was good We still needed to find a little bit of something Early on in the race Both myself and Carlos Checker were battling And we lost a lot of time on Max and Melandri So, but at the end of the race I was catching both Max and Melandri So, it's good But I just needed to find a little bit of time Sort of early on in the race And maybe I could have been there at the end To push for the win But it was still a good result for Aprilia Second and third And then in the next race We had a tyre problem And I was I think I finished eighth or something And it was a bad tyre And it does happen So, it's disappointing Because I was in a good qualifying position But also Max got a win So, the Aprilia was working well But it's a good job Right? It's the first year? It's the first time we've been in Aragon But yeah, I've had a few podiums this season But I haven't had a win yet Just the second position is my best So, yeah I would like to have a win soon And that's the goal, obviously But yeah, I'll just keep pushing And doing what I can How do you feel about this party Here in Campania, in Italy? All these people is here for you? Yeah, it's good It's a really nice dealership To come and have a look So, yeah I appreciate all the fans coming And saying hello So, good luck for the next race And we hope to see you here again In a few months You know? Yeah And come back I definitely need the luck, for sure We've had an up and down season So, I definitely need the luck Thank you Okay, just a last question Let's talk about something serious Are you single? No Girlfriend's here, actually Oh, okay Okay Ragazza, mi dispiace Non è libero Allora, capita Giovanna Che ti volevi proporre? Ragazza, è carino, eh È carino sì Alto, biondo, occhi chiari Piercing sulla lingua È una cosa incredibile Non l'aspettavo questa cosa da un pilota La mia pensa che quando corre se lo toglie No Perché? È pericoloso, no? No, non penso Insomma, speravi che fossi libero E invece? E invece la finanzata era lì Era lì, è anche un bel pezzo di finanzata Molto, molto, molto carino Complimenti all'io Grazie a tutti So, ciao a tutti